Salve ragazzi, come giusto appunto qualcuno mi chiedeva ieri riguardo a Path of Exile Ma sarà localizzato? E io ovviamente ho detto, probabilmente sì Il primo non è stato localizzato, ma il secondo è sempre un gioco più su ampia scala, con più budget Probabilmente sarà localizzato in italiano E invece no, purtroppo no Qui riporta EveryEye che hanno fatto un'intervista esclusiva In cui dicono, negli ultimi giorni si stava parlando moltissimo di Path of Exile 2 Il nuovo capitolo della serie si è mostrato all'Exile Con 23 E inevitabilmente catturato l'attenzione dei giocatori, vabbè di Diablo 4 E quando gli è stata fatta la domanda, ma sarà possibile giocare in italiano? La risposta è stata no Gli autori del gioco, interpellati dalla redazione, in merito all'eventuale presenza di sottotitoli in italiano Per il momento non abbiamo piani di localizzazione in lingua italiana Tuttavia valutiamo con una certa costanza l'eventuale aggiunta di nuove lingue E prenderemo in considerazione l'introduzione dell'italiano in futuro Quindi significa che il gioco attualmente non è in italiano Molto probabilmente non sarà in italiano Ma non sarà del tutto possibile che questo avvenga Potrebbe essere aggiunto successivamente Magari potrebbe essere aggiunto da una mod fatta da qualcuno Oppure magari al lancio già lo troveremo in italiano Fatto sta che attualmente il team di sviluppo non ha intenzione di portare Di tradurre Path of Excel 2 in italiano Questo è un peccato perché il gioco è abbastanza complesso Non tutti hanno facilità nell'intuire e nel capire bene il gioco in inglese E io mi ci metto in mezzo Quindi è oggettivamente un peccato Anche perché ci si perde sia la storia Che magari poi nel gioco alla fine Con un po' d'abitudine si arriva a capire bene Il funzionamento di tutto e delle varie abilità Però sicuramente si perde la storia Direi che è un peccato Comunque non possiamo farci nulla Vi ringrazio per la visione Ci vediamo per il prossimo video E ricordo a tutti che tra due ore inizia il download di